Ferri, c'è Breme sulla sinistra ed è a lui che Ferri porta il pallone, Matteoli, fultugiato da Alemao, Matteoli entra in area, Diaz, Diaz ancora, la traversone di Diaz c'è Matteus, Berti, Fusi, gol! Coraggiosa la conclusione di Berti perché è da apprezzare soprattutto il coraggio, sui trossi di prima intenzione, batte al volo di destro e anche direi fortunato perché senza la deviazione di Fusi difficilmente la palla finiva, intanto vediamo Berti, ecco lo vediamo Diaz, ecco qui il coraggio della conclusione ed è anche un motivo che anche senza la deviazione di Fusi sarebbe stato sicuramente pericoloso, poteva andare a cercare un altro angolo della porta, è veramente difficile per Fuli.